Mercoledì 23 marzo, siamo ospiti dell'Istituto Tecnico Commerciale di Bitonto e siamo con il dirigente scolastico, professor Arcangelo Fornelli, perché ci dicono che presso l'Istituto è stata organizzata un'attività per festeggiare i 150 anni della Unità d'Italia e allora ne parliamo appunto col dirigente scolastico. Buongiorno professore. Buongiorno. Nell'androne di questa scuola, come vedrete poi dopo, sono presentati lavori che tutte le 30 classi della nostra scuola hanno fatto in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Ciascuna classe ha sviluppato il tema relativo con creatività e dando risalto a quello che si sentiva di approfondire. Per cui passiamo da analisi storiche di come si è arrivati all'Unità d'Italia a una visione più creativa con la compilazione di poesie e è stato un modo diciamo abbastanza partecipato da parte di tutti gli alunni della scuola a questo festeggiamento. Naturalmente poi ciascun ragazzo o i ragazzi potranno dire meglio come nella loro classe si è sviluppato e approfondito il tema. Vi ringraziamo di questa vostra venuta per mettere in evidenza i lavori che hanno fatto i ragazzi. Da dirigente scolastico come ha visto la partecipazione dei ragazzi a questo tema e come pensa che i ragazzi l'abbiano percepito tutto il discorso sull'Unità d'Italia? Allora dal punto di vista mio personale sono stato felice perché il giorno avevamo dato una scadenza che era il 16 marzo da parte delle classi e tutte le 30 classi sono venuti in rappresentanza, in presidenza a consegnare i lavori che hanno, qualche lavoro anche multimediale, i lavori che hanno fatto e chiaramente erano molto contenti e hanno sentito l'anniversario. Non è stata una cosa formale e basta. Tant'è vero che si passa da poesie diciamo abbastanza particolari a lavori con powerpoint, lavori anche multimediali e anche qualche cartellone, poi ve lo farà vedere, ha qualche cartellone ironico sul nostro paese. Allora andiamo ad incontrare i ragazzi dell'ETC Vitale Giordano che hanno partecipato all'attività che li ha visti i protagonisti. Come nelle migliori tradizioni cominciamo ovviamente dalle ragazze del Bienio. Allora comincio con te, presentati. Allora sono Rosa Palmini della seconda TU. Invece? Alessia Derenoci della seconda TU. Allora voi di cosa vi siete occupati rispetto all'attività dei festeggiamenti per l'Unità d'Italia? Delle verità celate, cioè tutti quegli avvenimenti che gli storici non hanno voluto scrivere nei libri di testo. Sì, e come lo avete interpretato? Sì, praticamente l'Unità d'Italia non si concretizzò come si sarebbe potuto ma si realizzò come una forte impronta anticlericale che neppure i patti lateranensi del 1929 hanno nella realtà potuto sanare. Infatti questa riforma anticlericale innanzitutto vietava le pubblicazioni di encicliche papali, vietava il credo di esprimere alcun pubblico pensiero e addirittura la legge Rattazzi in un solo colpo cancellava gli ordini religiosi, le opere pie, espropriandoli di ogni loro bene non come si voleva far credere per risanare il deficit statale ma solo e discursivamente come primo passo verso una totale scristianizzazione del neonato Stato italiano. Poi ci siamo, infatti abbiamo detto è vero, l'Italia è Stata Unita ma ci siamo mai chiesti a quale prezzo? Infatti i piemontesi fecero al sud ciò che i nazisti fecero a Marzabotto. Nelle rappresali infatti si concesse la libertà di struppro sulle donne meridionali, molti meridionali furono incarcerati senza accusa e senza condanna e addirittura al momento delle unificazioni d'Italia i piemontesi impossero ai meridionali una tassa aggiuntiva solo per lasciarli espatriare. Senti una curiosità, chi è la tua professoressa di storia? La professoressa Castellaneta. Perfetto. Allora come continua la realizzazione del lavoro? Allora sappiamo che il meridione prima era molto più sviluppato dell'attuale nord e quindi diciamo con questa unità d'Italia tutto ciò che venne diciamo incamerato come denaro dal sud entrò a far parte delle casse di tutto lo stato e infatti dopo quest'unità furono aumentate le tasse in modo tale da spingere proprio gli abitanti del sud ad immigrare, ad andare a lasciare proprio l'Italia e quindi diciamo questa unità d'Italia non è mai stata concreta sin dall'inizio e questa questione ci fu un parlamentare Antonio Biglia che diciamo prese a cuore questa questione e voleva diciamo risolverla però non riuscì, infatti la questione è aperta 130 anni fa e rimasta ancora aperta perché comunque non è un'Italia unita Che idea vi siete fatti dell'unità d'Italia? È stata un'unità in dolore? È stata un'annessione del sud al nord? Che idea vi siete fatti voi come studenti? No, no, anche dalle indagini che abbiamo, anche dalle ricerche che abbiamo fatto abbiamo notato che l'annessione del meridione non fu né spontanea né legittimata da fare sui referendum che si tendero all'epoca cioè noi non sappiamo concretamente se il meridione abbia voluto annettersi o meno al resto del regno Sì, di concordo e parere Sì, sì E va bene, allora per il momento con gli studenti, io ringrazio le studentesse del biennio passiamo alle studentesse o agli studenti del triennio Con gli studenti del triennio dell'ITC Vitale Giordano per continuare a capire come hanno condotto lo studio sull'unità d'Italia e quindi sul anniversario del centocinquantesimo Siamo con, comincio con, per una questione di galanteria con la ragazza Simona Pastoresta dalla Quinta BM E poi? Vito Ciocia dalla Quinta BM E allora, come l'avete vissuta voi del triennio questa attività in relazione al centocinquantesimo dell'anniversario? Allora, questa attività ci riguarda, ci tocca particolarmente in quanto è il nostro programma e l'abbiamo affrontato da tutti i punti di vista sia dal punto di vista storico che dal punto di vista letterario e nel nostro cartellone abbiamo voluto evidenziare le varie tappe che hanno portato all'unità d'Italia a partire dalla prima guerra di indipendenza sino a Roma capitale d'Italia nel 1871 Inoltre abbiamo anche voluto esaminare l'unità d'Italia dal punto di vista letterario facendo un vero e proprio percorso a partire da Tommasi di Lampiedusa Federico De Roberto sino ad arrivare a Sciascia e ai problemi e a quella che è stata la crisi dei valori risorgimentali e quindi abbiamo voluto anche evidenziare per esempio la novella Libertà di Verga nel nostro cartellone e possiamo notare appunto la frase sciorinarono dal campanile che manifesta quella che è stata la rivoluzione dei contadini a Brant che si ribellarono nei confronti dei nobili A che periodo letterario appartiene Verga? Al verismo Benissimo, promossa Allora invece di invito E quindi il nostro istituto ha organizzato questa giornata di approfondimento per la questione Unità d'Italia e appunto noi del triennio ci siamo impegnati in prima persona perché oltre avendo studiato l'argomento possiamo dare una critica sia nel campo letterario che nel campo storico In realtà l'Unità d'Italia era comunque, proveniva da idee risorgimentali appartenenti all'inizio ottocento Ricordiamo la giovane Italia si forma nell'ottocento, negli anni trenta dell'ottocento e vedrà Giuseppe Mazzini impegnato in prima persona per l'unione dello Stato italiano in una sola ed unica repubblica Ecco quindi l'unità d'Italia prevedeva la creazione di uno Stato italiano repubblicano unito soprattutto a differenza del federalismo proposto ad esempio da Cesare Balbo che prevedeva la creazione dell'Italia in uno Stato federale sotto la tria papale e quindi si distacca molto anche da argomenti odierni ad esempio la questione federalismo e decentramento che sono purtroppo argomenti ancora d'attualità si dovrebbero essere superati in quanto appunto è necessaria l'unità d'Italia e è necessario soprattutto recuperare i valori che già nel 1900 si definivano persi ecco perché appunto il nostro istituto ha organizzato questa giornata di approfondimento inoltre la nostra compagnia teatrale ha proposto una rappresentazione appunto teatrale incentrata sulla figura di Antonietta De Pace una donna repubblicana risorgimentale di Gallipoli che quindi proponeva la creazione di uno Stato italiano repubblicano e quindi ad accentuare anche la figura della presenza femminile nei moti risorgimentali dell'Unità d'Italia Per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia dall'Istituto Tecnico Commerciale Vitale Giordano è davvero tutto per Bitonto TV Maurizio Loragno Grazie! 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 Grazie!